Corsa dell'anno, no? Corsa che ogni italiano aspetta davanti al proprio pubblico, questi 20 giorni che si è sulla scena davanti a tutti gli italiani. Sicuramente il Giro d'Italia è l'obiettivo dell'anno, l'obiettivo dove comunque se alzi le braccia comunque è già l'annata positiva. Quando ho iniziato sognavo questo momento e adesso è arrivato, quindi sicuramente l'emozione di vincere il Giro d'Italia resta un ricordo indelebile, soprattutto se è il primo grande successo, no? Quindi io sono andato vicino a vincere Tappa alla Vuelta e ho anche fatto un Tour de France nel 2014, però vincere il Giro d'Italia penso che sia per adesso sia la vittoria più bella della mia carriera, quindi speriamo di aggiungerne tante. Quindi qui è la fattoria? Ci sono le tue delle tue, le tue delle tue delle tue delle tue, le tue delle tue delle tue, le tue delle tue delle tue delle tue delle tue delle tue delle tue. Quindi c'è un po' di boxe in là, c'è un po' di ruoli, c'è un po' di frame, i suoi di frame? E' un po' di frame che abbiamo trovato nella prossima persona, questa stessa. quindi dopo aver testato tutte le tue delle tue delle tue, vengono qui? Sì, sì, sì. Ora sono pronti per la tue delle tue delle tue. Tutto il loro coloro, red, white, white, yellow, orange, ci sono molte colori. Non dimenticate che questo era il mio primo giorno quando ero 17 anni. Oh, sì. Sì, significa che ero 37 anni fa. Quindi ero come... No, no, no. Quando ero tue? 1989. Allora, essendo italiani, è scontato che anche io sono d'accordo che Giro Italia è sicuramente l'evento più importante che abbiamo in Italia, sia sia il campionato di calcio, ma Giro Italia è un evento, come dicevo prima, che accomuna tutti, non solo gli appassionati del ciclismo, ma anche i loro familiari. E basta vedere per le strade, ovviamente lo stadio che troviamo in certe tappe, Giro Italia, la quantità di persone è sicuramente superiore a uno stadio. Poi sei per un italiano invece di Giro Italia, è un sacco. Questo è un sacco. Questo è un sacco. Questo è un Giro Italia. Questo è da Miguel. Questo è del 1994. Questo è del Ciosi in 1981. È un po' diverso da te. È un po' diverso da te. È un po' diverso da te. Questo è il tuo. Questo è il mio. È un po' diverso. Quando la tante è finita, questo c'è il suo suono. Un poidetto, K8, F8. L'acqua, superi, superi, superi. Tu è il tuo poidetto. Un poidetto, molto, molto. questo è un buon semplice con gli schifoni italiani con il cuore di clear cut tutti sono personalizzati qui si vedete Elia, io vi aspetto a Treviso partite dal nord, dall'olanda, poi scenderemo da giù e noi vi aspetteremo in quel diagno a Treviso passa anche la tappa di Bibione passano da 100 metri proprio qui fuori a 100 metri tocchiamo Treviso prima di arrivare a Bibione quindi sarà la tappa importante per me quella più vicina anche a casa per quanto riguarda gli arrivi in volata quindi sicuramente sarà delle emozioni in più da stimolo per provare a vincere ancora quella tappa che anche l'anno scorso siamo riusciti a portare a casa e invece allora per questo Giro d'Italia le bici sono pronte? le bici sono pronte le F8 sono confermate quelle nuove noi cerchiamo di fare il meglio per voi non solo per Giro d'Italia ma qualche mese prima voi in teoria siete a posto noi siamo sempre qui bocca al lupo bella chiacchierata grazie a tutti